La cooperativa Il Puzzle 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 Per far sì che i talenti dei propri figli Potessero trovare cittadinanza A fornire una visione più chiara a livello nazionale sulle trasformazioni del welfare educativo con particolare riferimento all'impatto dei servizi educativi nelle comunità lo studio Kids for Impact del consorzio CGM e consorzio PAN che ha coinvolto da dicembre 2023 a giugno 2024 ben 40 servizi nazionali. A novembre, dopo una prima fase sperimentale, è in programma la presentazione dei risultati. Noi siamo qui in rappresentanza di CGM perché abbiamo sperimentato, siamo nella prima fase di svalutazione del progetto Impact for Impact dedicato alla fascia 0-6 anni e che cosa stiamo cercando di misurare? Stiamo facendo una sperimentazione per misurare soprattutto l'impatto che questi servizi 0-6 hanno innanzitutto sui bambini che sono i principali protagonisti dei nostri servizi a livello nazionale ma anche su tutto il personale educativo e tutto il personale che è coinvolto all'interno dei servizi per la prima infanzia ma anche per i territori dove i servizi vengono svolti perché le comunità che hanno servizi per la prima infanzia e soprattutto servizi di buona qualità alla fine beneficiano trasversalmente e longitudinalmente di benessere e ultimi ma non da ultimi stiamo studiando e quindi valutando attraverso il monitoraggio per avere una valutazione anche sui benefici che i genitori, i lavoratori e non hanno quanto i genitori riusciranno attraverso l'implementazione dei servizi per la prima infanzia a cercare o a mantenere il loro lavoro quindi stiamo facendo uno studio che coinvolge 40 cooperative a livello nazionale per tutto, lungo tutto il territorio nazionale e dopo di che saremo pronti anche a riprogettare i servizi Questa esperienza di una cooperativa che celebra i suoi 25 anni è una ricchezza sociale che va evidenziata non solo per i servizi che rende a tante famiglie della Puglia, della Basilicata, dell'area di Matera e non solo ma anche per la ricchezza di esperienze, di competenze che si sono accumulate nel tempo La Regione Basilicata guarderà sempre con più interesse questa capacità di promuovere una rete di servizi sociali a fianco ai bisogni delle persone e delle famiglie Il tema demografico è un tema importante, la freddura demografica, cioè il crollo della natalità è anche legata alla fragilità magari di servizi come questi che la cooperativa rende e mette in gioco con, come diceva lei, con elementi di innovazione perché l'età da 0 a 6 anni è un'età importante, cruciale della vita formativa ed educativa Al termine dell'iniziativa è stato inaugurato in via Sallustio il primo polo infanzia 0 a 6 anni già operativo da lunedì 22 luglio Racconto di un percorso che continua perché la cooperativa Il Puzzle già nel 2008 quando acquisì l'autorizzazione per la parità scolastica come scuola dell'infanzia già in quel momento, seppur il dispositivo normativo non aveva orientato ancora in quella direzione noi abbiamo dato una lettura alla crescita educativa dei bambini in continuità dall'asilo nido verso la sezione primavera e poi alla scuola dell'infanzia Beh, diciamo che oggi è un po' il completamento perché la prima sede, quella che abbiamo in via Cappuccini a Matera è stata una sperimentazione, se vogliamo, del polo infanzia 0 a 6 anni Oggi noi abbiamo inaugurato il polo 0 a 6 anni in via Sallustio è un luogo concettualmente predisposto e pensato in questa modalità ma di fatto è il primo luogo, anche strutturalmente definito che atto è il decreto legislativo che il governo ha già messo in atto per cui è un punto non di arrivo, è un punto di partenza perché l'ospicio è che, come noi, altre strutture, altre cooperative, altre associazioni possano germogliare. Noi non dobbiamo essere gelosi del nostro lavoro dobbiamo metterlo a disposizione perché poi alla fine chi ne devono godere sono i bambini innanzitutto